Un esempio che contiene tale lettera appunto. Vediamo l'alfabeto. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, O, Y, E, infine, Z. Ok. A come abelia, cioè ape. B come bola, cioè palla. C come casa, cioè casa. D come dado, ossia dado. E come elefante, cioè elefante. F come formiga, cioè formica. G come gatto, gatto. A ga come omeim, cioè uomo. I come ilia, isola. J come giardim, cioè giardino. Kap come karate, cioè karate. L come libro, ossia libro. M come mesa, tavolo. N come nariz, naso. O come orelia, ossia orecchia. P come pato, papera. K come keisho, cioè formaggio. R come ratto, cioè topo. S come sol, cioè sole. P come telefono, cioè telefono. U come urso, orso. V come vigno, cioè vino. W o w come webcam. Con quella litra.